Conosco un ragioniere, un ragioniere a dondolo, un banca fa il cassiere, in tram legge il giornale, non è un tipo speciale, Bassotto è un po' pelato, con pancetta e fanciotto, ce n'è di ragionieri più belli per il mondo, dottori ed altra gente dall'aspetto imponente, ma che ne sa la gente se uno è solamente un ragioniere oppure è un ragioniere a dondolo, è in casa che si vede se uno ha un bimbo biondo che si arrampica in groppa, al suo bel babbo a dondolo e insieme galoppano tra il tinello e il salotto senza darsi pensiero dell'inquilino del piano di sotto.